La guardia costiera di Castellamare di Stabia, diretta dal comandante Andrea Pellegrino e sotto il coordinamento della direzione marittima di Napoli, continua le attività di controllo impiegando mezzi navali e pattuglie via terra. Oggi i militari sono intervenuti in località Re Commone a Massalubrense e nella suggestiva Baia sono stati liberati specchi d'acqua abusivamente occupati da boe che impedivano la pubblica fruizione del mare. L'attività di polizia ha portato al sequestro di numerosi gavitelli regolarmente posizionati in acqua, operazione che si affianca ai sequestri già effettuati dalla guardia costiera nei giorni scorsi in particolare nella zona di Marina del Cantone, sempre nel comune di Massalubrense. I responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e diffidati al ripristino dello stato dei luoghi. Con il blizzo odierno è stato quindi restituito alla collettività uno specchio d'acqua di oltre 30.000 metri quadrati nel quale si potrà nuovamente muoversi e navigare senza rischi.